I cannoni di Navarone di Carl Forman I cannoni di Navarone, un film di guerra del 1961 per la regia di Jack Lee Thompson con Gregory Peck, David Neven e Anthony Quinn. Il soggetto del film è che sulla piccola isola di Keros sono stati abbandonati 2000 soldati inglesi che stanno per essere attaccati ai tedeschi come prova di forza per influenzare la Turchia neutrale. Per salvare questi uomini gli alleati decidono di inviare delle navi ma l'unico canale per Keros passa davanti a Navarone controllata da due micidiali cannoni tedeschi che debbono quindi essere eliminati ad ogni costo. Per portare a termine la missione vengono reclutati cinque uomini ciascuno con dei precisi compiti. Il gruppo ha solo quattro giorni per prendere contatto con i partigiani locali e rompere nella fortezza di Navarone penetrare nella caverna dei cannoni e farli saltare. Dunque affidandosi esclusivamente ai lati esteriori e spettacolari della vicenda il regista ha dato vita ad un film di ampio respiro e di grande rilievo spettacolare ma poco convincente sul piano psicologico. Nonostante i nomi illustri che vanta tra gli interpreti e la sicura regia il lavoro resta un tipico esempio di prodotto commerciale. Il film che appartiene al genere di guerra non dà luogo a dei rilievi in sede morale se si accettua qualche breve scena di violenza inerente peraltro al genere stesso. Prima di lasciare una parola a Stefano Falotico volevo menzionare la fotografia di questo film ad opera di Oswald Morris davvero eccezionale in Eastman Color e Cinemascope. A presto! Salve amici fratelli della congrega scusate ho mangiato delle scaloppine al limone e basta in questa storia tu hai limonato, tu hai drincato hai drincato, ci sei ubriacato scaloppine te la sei sciroppata questa vita ora i cannoni di Navarone partiamo con una battutina non ha freddura dunque mi piglierà a raffreddore fa molto freddo fuori ma si uomini raffreddati dentro non fuori nell'anima allora ve la ripropongo già ve la proposi allora i cannoni di Navarone poi ne parleremo seriamente qui sdraiatamente quasi sul dormiente ok spesso fui sul demente i miei uomini malati di mentine sì 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 mi piacciono le ramelline lì dicevo i cannoni di Navarone a proposito di rime baciate 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 filastrocche no le gnocche ci sono anche i cannoni di Navarino c'erano non so che fine l'abbia fatto quest'uomo era un bidello non tanto bello infatti pulivi i cessi diciamo poi si specchiava e vedeva un altro cesso la sua immagine riflessa era un verso sostanzialmente lavorava a liceo Sabine io ho mai lavorato in vita mia impossibile diciamo che io frequentai questo liceo scursale via a brocchendosso poi mi cagai addosso cagai addosso cari piscialetto no dicevo questo è un avarino non so se conoscesse o conosca se ancora vivo campa non è che campanava molto la campanasse ecco suonava le campane sì sì il bidello fa quello quando c'è la ricreazione era creativo comunque più che altro era un cretino e stava lì e guardava tutte le cosce delle ragazzine in pieno ambito diciamo scolastico proprio poteva fare proprio un educatore questo no di recreation diciamo della sua mente e anche di qualcosa altro il suo cervello arriva con quello e allora così rimpiangeva di non essere più giovane e fumava delle canne mamma grosse non conosceva neanche il festival di camp tra l'altro e guardava tutti questi ragazzi che per l'appunto limonavano lì poi si bagnavano nei bagni le ragazze e lui sorvolava dicevo che volava alto stava lì con la gamba a cavalletto nel corridoio e fumava cannoni cannoni di Navarino mi racconta anche un'altra su un set allora lo zio di mio padre mio padre lo paragonava sempre a Carlo Verdona si diceva che era imbranato come lui a proposito di limonare gelata al limone era sposato la zia acquisita il mio padre zia Teresa che è ancora capa questa qua mi racconta un aneddoto spero divertente esilarante diciamo che anche lui era sul frustrato forte quasi come Verdone ecco anche lui migrato ecco origini meridionali quello di bianco rosso ecco non era molto istruito diciamo lo conoscevo il cosiddetto gran lord non sapeva neanche cosa fosse cosa sia stato diciamo camolo però diciamo che era al mare lì andò a prendere i gelati per sua moglie la zia di mio padre tua zia mia e la figlia in western che diciamo sia una cima allora ho preso questi gelati camminava guardava come Navarino tutte le donne tutte le donne bikini con quello sguardo malandrino berichino volpino a volpone un po' la Verdone diciamo sull'imbraneto potente proprio però allora camminando sotto il sole coccente diciamo che i suoi ormoni erano parecchio aldeardenti diciamo guardavo guardavo però non guardava avanti guardava solo il di dietro delle donne e i topless a un certo punto camminando così boom e le donne guardarono lui che aveva fatto la figura proprio del coglione abbiamo i cannoni di Navarone i gelati al limone i cannoni di Navarino i coglioni i bambogio gioni bambagio bacioni vedete e i tromboni quelli che se sbaglio a parlare mi sono in garbuglietto dicono studia 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 e hanno sempre il linguino fuori però perché a forza di studiare questi non è che insomma si sono messi sotto proprio sottomessi la moglie sono succubi sono sempre stati diciamo dei poveri disgraziati dice non molto aggraziati è così e l'hanno per esempio in quel posto può succedere e dicevo questo zio qui mangiava mangiava comunque non leccava solo perché doveva leccare leccava solo qualche volta il gelato ma no quella della moglie era completamente gelato oramai era deserto proprio inaridita anche quello mangiava cannelloni tortelloni non è che lavorasse appunto con la moglie di besciamella comunque diciamo così mangiava sempre qualsiasi cosa mangiasse anche una schifezza diceva è buona poi guardavo quella è buona è buona questa è una cannonata poi andava nel bagno come una marina che è anche quella e cacciavano le scure i cannoni insomma pensiamo a qualcosa di dolce dai basta con questa amare l'amere l'amarezza ecco mie dolcezze tenerezze vabbè non è proprio un inizio di massima bellezza di presentazione di un filmone comunque questo è un massapiss mi understand poi il doppiaggio qualche volta perché sono tutto orecchie si dice ho tutto orecchi perché Gregory Peck è qui il doppiaggio Peck un po' in un modo di dire tutto orecchi poi il maggiore quel non queen i miei uomini bugiardi traditori come Barabba dice lui mentisce ma si può dire lui mentisce o lui mente oppure lui è malato di mente a me dico quel falo come Barabba ma la sua si fighette poverette si dite beh chi dice così sono donne come quella zia lì che sono il marito non ci ha mai dato dentro veramente ve lo dico io e poi diciamo hanno ripiegato sulla cultura perché c'è ripiegato il culture proprio lì che caccia c'è queste diciamo sono faluticate sono le cannonate dello zio non c'è più non è andato e vabbè cannoni di navarone è chiaro? non è chiaro? cosa? il mare? il mare il sole l'imbido l'indo ah balla linda balla come sai balla linda non fermarti e ascoltava appunto poi anche la canzone del solo battiste diciamo perché lì proprio altre parti proprio si batte chiodo ma sono un po' come la sconsolata e la vita lì 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 le batutine i cannoni di navarino diamoci alla recensione dei cannoni di navarone regia di jay fuston che subentrò ad alexander mckendrick ma chi lo conosce dopo pochissimo e adesso prestissimo arriviamo al mio pezzo ebbene oggi recessiamo l'occasione della sua pregiata uscita in 4k a blu ray un grande classico classicone intramontabile della cinematografia mondiale ovvero l'indiscutibile i cannoni di navarone the games of navarone i cannoni di navarone ma quest'isola navarone esiste veramente no cacao meravigliavo e cos'è il super green pass bisogna no ma si chiama super ma non bisogna richiederlo allora film del 1961 1961 della no non è venuto benissimo 1961 della robustissima e mai noiosa durata di 2 ore 38 minuti scanditi i minuti o scandita la durata da un perenne adrenalinicopato spettacolare e compattamente diretto magistralmente dal compianto jelly thompson nato all'anagrafe come john andiamo a controllare perché non vorrei sbagliarmi ehm si john lee thompson mmm diciamo ecco ehm nato all'anagrafe come john e spesso accreditato anche nei dizionari come jack 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 che con questo suo instant classic niente affatto datato malgrado della sua uscita siano trascorse ben sei decadi esatte cioè 60 anni facciamo un po' i conti ma arriveremo al prossimo anno o ci chiuderanno di nuovo in casa perché se no non sono 60 anni allora questo film è del 61 eh però ci hanno tolto due anni di vita questa storia del covid quindi allora facciamo bene i calcoli perché le cose vanno bene allora ehm 71 81 91 2001 2001 2001 disse nello spazio ma non ma non è vero ancora oltre marte che poi con le sonde non siamo mica andati allora il tempo sfarfalla ok ci siamo dicevo raggiunse un vertigino successo di pubblico pressoché inaspettato poiché come attentamente osservato da molti molti chi da molte persone i cannoni ehm allora non va bene lei ha detto molti molti uomini e donne eh no molti uomini e donne beh è femminile e quindi no va bene così allora il cannone di Navarone fu e rimane uno di quei pochi film ambientati durante la seconda guerra mondiale che ottenne largo successo immediato ricevendo altri figli unanimi plausi d'una plausi anche plausi dopo la proiezione però i plausi allora chiariamoci allora ad una critica che lo elogiò in maniera entusiastica entusiasmo bravo applauso scrosciante come dico io che la donna in prima fila sia in prima perché quella è una prima fila sia scosciante entusiastica strano non è vero soprattutto considerando che perlomeno in quel periodo precisamente ridosso della fine insomma del succita lei è molto succinta con quelle cosce lì così in minigonna del succitato conflitto bellico ci pare lei non sia bellicosa non muova troppo perché altrimenti io sarò poi belligerante in realtà le vorrei essere amante o no ci pare molto strano che la gente a eccezione fatta per l'appunto nei riguardi di questo film non fosse interessata a pellicoli incentrate su tale periodo storico che coinvolse direttamente in primis gli stati uniti un po' tutto il mondo mondiale tornando invece al suo regista jaley thompson acqua a bristol in inghilterra forse permetteteci di pensare quanto vi stiamo subitanemente per dire dovete dovete tifare molto per il combattivo suo connazionale stagista wison churchill interpretato in dark and sour di john wright che adesso uscirà con questo vissere no di marcia rec allora più buia da gary olman ok lee thompson un regista assolutamente da riscoprire quanto prima peraltro director prima e dopo tale suo stupendo i canoni di navarone di molte pelicole girate assieme a uno dei suoi attori preferiti cioè gregory peck col quale girò infatti qui diamo un po' a casaccio non in ordine cronologico il notevole il promontorio della paura così intitolato da noi anche se in originale cape fear che ispirò all'altrettanto soddisfacente rimicri rimicri rifiacimento keep fear col sottotitolo poi diciamo a posto no tu stai a posto ok lei che cosa nella mia vita che cosa dalla mia vita riguardo la mia vita ecco aveva su supposto ma prendo una supposta di martin scorsese l'adultero la lunga ombra gialla invece quel deliro lì di che fear è un'ombra diciamo maligna fantasmatica che si aggira di notte ok instaurando col premio oscar deniro no peck per il buio oltre la siepe eh sì perché quello è matto è come deniro no peck lì è l'avvocato dicevo non è san bauden no dicevo il buio oltre la siepe c'è quello lì che si infatti va a casa dell'avvocato lì si mette sul muretto il muricciolo ma no ma no Gregory Peck giusto appunto un fruttifero sodalizio artistico davvero rilevante ispirato non so quanto possiate capire a volte nelle mie recensioni ma ci sono questi accostamenti il cinema metacinema tutto che si intreccia l'intreccio adesso arriveremo alla trama con calma è chiaro ok peck il quale è neanche a farla apposta non a posto né supposta è chiaro uno dei protagonisti di tale titanico i canoni di Navarone tratta da un romanzo anonimo di Alistair McLean adottato per l'occasione dello sceneggiatore Carl Foreman da confondere col pugile che ne prese tante è chiaro ne diede anche tante però da Mohamed Ali George Foreman written non è tanto written written for the screen cioè scritto per lo schermo buy l'autore di opere altrettanto memorabili come il ponte sul fiume quai dovai e mezzogiorno di fuoco vi consiglio anche Gregory Peck a proposito di cose marine oceaniche nel Moby Dick di Houston col grande Orso Wells you understand messo in scena come detto con ferre a mano registica trama trama cosa questi nazisti tedeschi tramano è un po' accopiato per bastardi senza gloria ma non vi diciamo altro se non avete mai visto questo classico Tarantino allora siamo nell'isola greca di Kouros Kouros quattro coraggiosi partigiani commilitoni nell'ordine capitani Kate Mullary Peck il caporale vabbè qui quei nomi John Anthony Miller Dave Neven Neven il colonnello Andrea Stavros Anthony Queen il maggiore Roy Franklin Anthony Quay formano insieme a un paio di soldati un comando e si lanciano onorevolmente in una missione intrepida e spericolata comando non confondere col film con Arnold Schwarzenegger vale a dire a nientare distruggere dei micidiali canoni ubicati all'interno della germanica fortezza di Navarone massiccio fortilizio comunque è un'isola fittizia che non esiste nella realtà a sua volta strategicamente celata in una scogliera granitica apparentemente inscalfibile ok qui gli scafi la gente che salpa la gente che poi alla fine salta c'è l'esplosione allora per aria i canoni di Navarone vinse solo un Oscar andato agli effetti speciali sonori visivi non lo so controllate sulle sette pregevoli erano sette i nani candidature fra cui miglior film e migliore energia best picture best director e sebbene abbia indubbiamente perso un po' del suo smalto negli anni a dispetto ad un suo impianto lei signora in prima fila si avrà anche delle belle gambe però doveva smaltare di più le unghie è chiaro così come giustamente sottolineato dal dizione a dei film Morandini un po' filosofeggiante retorico rimane un'imprescindibile film avvincente che tiene incollate la sua visione dal primo all'ultimo minuto coinvolgendoci non soltanto in senso epico avventuroso bensì intrattenendoci adesso passa l'aereo qui ci sono le navi invece grandemente in virtù di ficcanti dialoghi di impatto pregni di sicura emotiva presa nel cast la mitica Irene Pappas una donna che all'epoca tutti gli uomini Pappas infatti ecco con questa Anthony Queen quella del mandolino del capitano Corelli anche quello un grande film di John Madden regista di Shakespeare in Love con Nicolas Cage Penelope Cruz Christian Bale c'è anche John Earth quello di Elfman sì il compiato John Earth e beh fu omaggiata perché una delle sue interpretazioni più famose è proprio in questo film I cannoni di Navarone ok questa è la recensione non vi è piaciuta? non vi è piaciuta? a me piace a noi piace quindi non rompete i i i maroni andate a mangiare un canolo perché come diceva quello zio lì è una cannonata e questo film è una bomba è chiaro? è chiaro?